cari amici benvenuti in questo video dedicato a camp bar di scout master season magari vi ricordate che la volta scorsa i nostri piccoli aiden e gli oshinori hanno deciso di fare un allenamento che poi è diventato molto intenso troppo intenso e adesso finalmente si sono levati di dosso il sudore la saliva e anche altri liquidi che iniziano per esse e che non voglio menzionare no non è la sangue sperando che abbiano anche lavato i vestiti dato aria alla stanza e lavato i pavimenti finalmente questi due sono usciti dalla doccia mi sento meglio dopo una doccia calda e lunga meno male che nessuno ci ha visti mentre facevamo cose nel caso ve lo siate scordato c'è un video con me mino e triton che reagiamo alle cose di cui parla yoshinori altrimenti sarebbe stato un problema o per un pelo a mi fa male tutto ragazzi ci siete andati troppo pesanti con me sì in effetti stavi facendo dei versi piuttosto forti ecco vai con doppi sensi beh sì abbiamo veramente spinto il suo corpo al limite si saranno allenati anche loro dai è l'unica spiegazione plausibile sono tutti in tuta a parte goro che è in accappatoio vestaglia boh beh io pensavo che sarebbe svenuto alla fine oh avete fatto qualcosa di divertente tutti assieme per caso oh ciao ragazzi sì in effetti si ci siamo allenati tutti quanti insieme dopo aver riparato il sito sì guarda anche noi abbiamo cominciato ad allenarci oggi abbiamo appena finito ah ecco perché siete in asciugamano e basta allora in effetti sono molto sorpreso di essere riuscito a tascinare gina ad allenarsi non l'avrei mai giudicato come qualcuno interessato al fitness beh è che io avevo capito un'altra cosa quando mi avete detto che mi avreste fatto lavorare sul mio corpo e chissà cosa pensava povero gina io dico che ne è valsa la pena se non ti impegni i muscoli non vengono sì ma altro che impegno qui sto malissimo ora è stata un'esperienza con voi ragazzi voglio dire però avere tre uomini che mi aiutavano sicuramente mi ha motivato vabbè almeno un buon punto di partenza se continui in poco tempo ti metterai molto in forma la prossima volta potremo farlo tutti quanti insieme voglio farvi vedere le mie pose di yoga preferite ah ma dici come la posizione del cane a faccia in giù sì ma suona proprio in un altro modo però quella cosa lì vabbè lasciamo perdere doveste vederla di persona oh che ci fate tutti quanti qui adesso è questo il bagno degli uomini sei tu che sei appena entrata beh io pensavo non ci fosse nessuno visto che nessuno ha chiuso la porta sì ma potevi bussare beh sono andata prima nel vostro dormitorio non c'è nessuno poi qui la porta non è non è stata chiusa pensavo che non ci foste ecco comunque giusto per sapere come mai la vostra stanza puzza così tanto eh ho un'idea in realtà sa di sudore milkshake proteici cercate da aprire le finestre oh tesoro com'è ingenua emilia pensa veramente che sia solo quello il problema no non potevamo aprire la finestra il feddo fa male agli allenamenti emilia ma che ci fai qui emilia beh sono qui per la vostra biancheria sporca ah giusto appena in tempo ce n'ho un po qui guarda prendila oh per l'amor del cielo ma questa è la sua biancheria intima usata che schifo guarda che sono molto pulito perché tu lo sappia sì è vero è pulito come un bebè sì non è un paragone che apprezzo ma no ma guarda cosa è diventata la mia vita beh guarda in realtà stavo pensando di farlo io il bucato perché lo stai facendo tu adesso beh perché ho chiesto a yuri di insegnarmi a fare le faccende domestiche però non pensavo mi abbia fatto fare questo sicuramente sapeva che non mi sarebbe piaciuto e deciso di farmelo fare lo stesso che brutta strega nonostante questo sono molto felice di vedere che vuoi aiutare mi fa capire che stai crescendo lo so che dovevi essere diciamo contenta per questo discorso ma il fatto che tu me lo dica mentre mi dai una maglietta sudata non migliora la situazione scusa ma dovevo dartela comunque sì ho parlato con il signor cremont qualche momento fa e a quanto pare pensa di andarsene pensavo ad andarlo a salutare ma ho ancora da occuparmi di questa vostra biancheria schifosa no ci penso io al signor cremont non ti preoccupare anzi ci pensiamo noi adesso ci vestiamo e andiamo vabbè allora io vado a preparargli la cena mi è appena venuta una buona idea Aiden non puoi andare in giro soltanto con l'asciugamano e vabbè io vado a vedere che non abbiano delle brutte idee all'ultimo momento che possano fare una cattiva impressione vabbè e allora noi andiamo a fare la doccia che cavolo vi spogliate così davanti a lei c'è anche gin che sta morendo ah già sei ancora qui tu e vabbè gin è andato poveretto è morto che ci vogliamo fare grazie per aver deciso di rimanere a cena con noi prima di andare via signor cremont no sono io che vi ringrazio invece siete stati così ospitali in questi due giorni anzi la vostra ospitalità è uno dei motivi per cui ci ho messo tanto da andarmene ed è stata anche una delle cose migliori che mi sia capitata a questa piccola vacanza con tutte le cose che succedono laddove lavoro io mi serviva un po' di stacco dallo stress e una zona così rustica era proprio quello che mi ci voleva siamo felici che tu ti sia goduto il tuo tempo qui con noi signore e senza il tuo aiuto sicuramente non saremmo riusciti a risistemare tutto in fretta come ho detto non ci pensare sono contento di essere stato d'aiuto era il minimo che potessi fare comunque vorrei potermi scusare ancora per quello che è successo con la signora Comarova all'albergo ecco non avevo idea di quanto fosse malmessa la sua salute mentale in quel momento non c'è nessun problema ma penso che nessuno di noi l'avesse capito in realtà quindi no non è colpa tua comunque sia sono molto felice che adesso Emilia sia circondata da persone che la supportano e la sopportano ragazzi c'è un pasto molto molto speciale per il nostro ospite il signor Clermont ovviamente non mi sono dimenticato anche di voi altri ragazzi c'è un sacco di cibo per tutti oh caspita mi sembra un ottimo modo per concludere questo viaggio sembra buonissimo ma che accidenti è ma Aiden hai rifatto un piatto di quelli che c'erano in albergo l'hai fatto tu davvero beh diciamo che quando siamo andati a mangiare in quel ristorante di super lusso ho imparato qualche trucchetto sai come si dice se non puoi batterli unisciti a loro beh e credo di poter dire a nome di tutti che non vedo l'ora di assaggiarlo spero che sarà buono quanto sembra oh mio dio ma è buonissimo sono felice che ti piaccia signor Clermont beh senti io ho mangiato in ristoranti di tutto il mondo e posso dirti che la tua cucina è comunque una delle migliori che abbia mai provato nonostante quello che Emilia blatterava oh grazie che complimento meraviglioso ma non sarà che lo dici soltanto perché hai fame no no lo dico perché è vero non ti sottovalutare bimbo dai l'autostima quella sconosciuta ora sono curioso ma dove hai imparato a cucinare? dal mio padre era uno chef quel camp buddy quando ha aperto la prima volta ah quindi tuo padre era uno chef professionista? no semplicemente era uno chef appassionato e l'ha passato a me quindi non hai studiato cucina eppure sei così pieno di talento molto interessante beh vista la situazione penso che dovresti provarla a una scuola di cucina voglio dire ti manca soltanto una certificazione e considerando le tue abilità penso che per te sarebbe molto facile se ti prendessi il tempo per studiarci un po' ecco sai sono un amante del buon cibo ho anche diverse conoscenze che potrebbero servire con gli chef migliori del mondo e ovviamente con i loro corsi di cucina se ti interessa cosa sul serio? assolutamente sì mi fa piacere poter coltivare dei talenti ah sono molto onorato ma io non penso di essere tagliato per queste cose grosse inoltre penso che i prezzi di questi corsi siano un po' fuori dalla mia portata ah di quello se ne può parlare beh io ehm povero stellino ansioso non devi rispondere adesso se non te la senti vero signor Clermont? non riesco a decidermi se voglio dirlo Clermonte o Clermonte non lo so forse Clermonte non lo so ditemelo voi come lo preferite penso vada bene in entrambi i casi no no infatti la risposta non deve darmela subito lo capisco che è un'offerta molto improvvisa e anche un po' preoccupante forse a pensarci in retrospettiva quindi per favore Aiden prenditi il tempo che ti serve per pensare sono d'accordo penso che valga la pena pensarci approfonditamente a questa cosa è una decisione enorme dopo tutto comunque sia le porte sono sempre aperte qualunque cosa tu decida basta che mi chiami grazie per l'opportunità signor Clermonte ci penserò sicuramente benissimo e con questo direi che è il momento che io vada oh ma non vuoi restare per il dolce posso fare qualcosa di super figo no va bene sono già pieno a dir la verità ho diversi appuntamenti domani no no lo capiamo siamo stati molto felici di averti qui sai ancora una volta grazie per l'ospitalità spero di non avervi fatto ammattire troppo ma no per niente sei sempre benvenuto quel campeggio quando vuoi esatto per favore vieni a trovarci quando vuoi grazie ragazzi la vostra gentilezza sarà molto apprezzata comunque sia se ci fossero mai dei problemi qui al camp buddy fatemi sapere subito che io cerco di aiutare sono sempre felice di farlo ok lo terremo a mente signore beh l'autista è arrivato spero di rivedervi presto e con buone notizie oh e a proposito anche tu Aiden fammi sapere eh ho molte speranze per te ciao come ciao in italiano così perché in italiano non riuscivo a credere a quella meravigliosa opportunità che il signor Kremont aveva appena dato ad Aiden sicuramente era emozionato per questa possibilità ero così felice per lui ma lui è terrorizzato secondo me conoscendo Aiden dopo che il signor Kremont se n'era andato Goro è andato al sito di costruzione per vedere un po' la situazione mentre Aiden e Dio abbiamo cominciato a pulire la cucina vi prego pulitela e basta vi prego vi prego fate solo quello per favore non posso richiamare il mio trago beh devo proprio dirtelo Aiden hai veramente fatto colpo sul signor Kremont con la tua cucina eh sì ma non pensavo che si sarebbe messo a fare tutte queste domande non che sia così sorpreso ma quel piatto ha colto alla sprovvista anche me pensavo che avremmo semplicemente cenato invece te ne sei uscito con quel piatto super sofisticato sono molto felice che vi sia piaciuto forse è stata la presentazione non lo so però ma l'hai visti i piatti erano stati praticamente leccati questo dovrebbe essere significativo no? mi sa che ho fatto bene a rischiare un pochettino a fare una cosa nuova allora decisamente sì sembrava veramente molto sofisticato come piatto proprio come quelli dell'albergo sono semplicemente felice di avercela fatta mi ci sono sforzato per ricordarmi come era fatto il piatto dell'albergo tuttavia mi domando come mai ti è avvenuta quest'idea? beh il fatto che volevo fare una cosa speciale per il signor Clermont prima che se ne andasse visto che era il suo ultimo giorno qui con noi ha fatto tanto per il campeggio e poi se devo essere sincero dopo il casino con Emilia in albergo è da un po' che volevo provare delle cose nuove via se devo imparare a fare qualcosa è bene che impari adesso ah no lo capisco però spero che non ti stresserai troppo ecco ma no tranquillo mi sto assicurando di fare le cose al mio ritmo e di divertirmi mentre le faccio e poi devo rivelarti un piccolo segreto quel piatto che vi è piaciuto tanto in realtà era una specialità del mio babbo ho semplicemente reso il piatto un pochino più elegante e aggiunto qualche tocco personale oh wow non l'avevo mai fatto prima perché non pensavo di essere all'altezza di mio babbo però mi ci sono avvicinato dai sai mi ero sempre chiesto come avete fatto te e il signor Andre a diventare così bravi a cucinare sai non penso di avertelo mai detto ma mio padre ha sempre sognato di fare lo chef il fatto però è che le cose per lui non sono andate in questo modo perché non si poteva permettere di studiare abbastanza per diventare uno chef professionista era già abbastanza difficile la sua vita dovendo si occupare di me dovendoci tenere un tetto sopra la testa e dovendo mettere del cibo in tavola per entrambi immagino che sia stato molto difficile vero ma alla fine non è andato così male anche se non avevamo tanto alla fine mio babbo ha sempre fatto di tutto per far funzionare le cose non mi sono mai sentito come se ci mancasse qualcosa mentre crescevo mio babbo faceva sempre in modo di preparare qualcosa di speciale quando tornava a casa dal lavoro ero sempre molto sorpreso di vedere come riuscisse a prendere degli ingredienti semplici ed economici e a trasformarli in qualcosa di fantastico così alla fine mi sono appassionato anche io di cucina e alla fine ho cominciato a cucinare al posto suo perché mi rendevo conto che era troppo stanco per come lavorava e alla fine fu così che cominciamo a diventare sempre più legati mentre imparavo a cucinare lui mi chiamava il suo piccolo chef e cucinavamo sempre insieme che è come Aiden chiama Hiro il piccolo chef se ben ricordo e non importa quanto la vita fosse difficile trovava sempre il modo di sorridere ogni volta che facevo qualcosa per lui ed è per questo che cerco sempre di vedere il lato positivo di tutto e di essere felice per quello che ho oh Aiden e immagino che tu il resto della storia lo conosca già visto che poi arriviamo al camp Buddy già ed è bellissimo vedere quanto sia andato avanti da allora e vorrei che lui fosse qui per vedere tutto quello che ho fatto se sapesse che ho avuto l'opportunità di diventare uno chef professionista sarebbe felicissimo per me sono sicuro che sarebbe molto fiero di te in effetti non avrei mai pensato di avere un'opportunità del genere perché non pensavo neanche di esserci così tagliato per la cucina professionale e invece Aiden hai tutto quello che ti serve proprio tutto hai tutto quello che ti serve per aver successo fin dall'inizio hai talento, lavori duramente e tutto quello che devi fare adesso è portare a livello successivo la tua abilità oh Yoshi oh Yoshi va bene hai ragione proverò questa scuola per chef sai pensavo che ci avrei messo più tempo a decidere perché per quanto sia emozionato di sentire questa offerta voglio dire pensavo fosse troppo bella per essere vera ma adesso che mi rendo conto che non ho niente da perdere tutto da guadagnare finalmente posso fare una scelta per me stesso sono felice che tu la veda in questo modo e io sono felice di avertene parlato grazie per chiedere sempre in me Yoshi ci sarò sempre per te Aiden che carini però vedi questi sono i momenti belli di Camp Buddy quando per una volta si parla invece di fare soltanto cosacce è vedere Aiden così determinato mi faceva capire quanto fosse cambiato come persona e finalmente se la sentiva di fare uno sforzo soltanto per fare qualcosa per se stesso e per il suo futuro adesso mi assicurerò di aiutarlo in tutti i modi in cui posso farlo ma che carino troppo carini perché è di nuovo il giorno 83 quanto dura questo giorno 83 quanto deve durare non dovrebbe essere 84 ormai buongiorno Aiden buongiorno Yoshi ah sono felice che vi siate svegliati no non mi hai fatto paura ho interrotto la vostra sessione di cocco le piccioncini veramente sei già vestito nonnetto come mai dove vai sì ho una faccenda urgente in città e sono già un po' in ritardo posso portarti io allora no no nessun problema però un favore te lo devo chiedere quale potesti occuparti di questi documenti e portarli in ufficio al posto mio? si tratta di un report che ha scritto Gin riguardo i nostri progressi tecnici non ho avuto il tempo di leggerlo perché stamattina son di fretta oppure perché tutto quello che ha scritto il nostro piccolo Gin ti ha confuso vero nonnetto? non credo che neanche tu ci capiresti qualcosa e beh sì vero comunque puoi lasciargli a me questi documenti nonno so dove metterli grazie adesso se non vi dispiace sparisco mi raccomando non guidare troppo veloce grazie ragazzi a dopo allora dov'è che eravamo? vuoi dormire ancora un po'? sembra che tutti quanti stiano ancora riposando ma no adesso sono sveglio il nonno mi ha veramente spaventato va bene allora ci alziamo? beh anche oggi non è che ci sia molto da fare vero? sì i ragazzi che devono lavorare qui con noi arriveranno soltanto domani quindi magari possiamo prepararci a riguardo? sì buona idea Yoshi facciamo tutto il lavoro di preparazione oggi così posso cucinare qualcosa domani di speciale per loro devo imparare qualche nuovo trucchetto se devo diventare uno chef vero? dire di sì questo è lo spirito Aiden comunque sì adesso vado a lasciare queste cose che mi ha chiesto il nonno nel suo studio e poi possiamo cominciare in cucina assolutamente wow ce n'è di roba del nonnetto qui sulla schivania come fa a capire su cosa sta lavorando con tutta questa roba aperta? e sto per aggiungere altri fogli vabbè ecco qua finito me ne posso anche andare? no veramente tutta questa cartaccia dovrebbe essere in digitale ormai voglio dire ma chi è che usa ancora i fax? beh visto che sono qui potrei anche potrei fare cosa? cosa vuoi fare? oh Aiden in effetti mi chiedevo come mai ci stessi mettendo tanto tutto bene? ora che è successo? no è che io dovevo fare delle cose venendo qui lo sai com'è il nonnetto il suo studio è sempre un disastro mi sono messo a sistemare un po' sì in effetti anche io non riesco a fermarmi dal riordinare il suo ufficio ogni volta che posso comunque sì adesso ti aiuto con le preparazioni facciamo cioè non posso certo lasciarti fare tutto da solo e comincio a tagliare qualche cosa non te ne lavi le mani prima? cosa? e non ti sei neanche messo il ganviule? oh sì sì scusami è un po' confuso Aiden ha sicuramente visto qualcosa che l'ha confuso Aiden è un po' strano mi domando che problemi abbia adesso stai ripensando all'offerta che hai ricevuto per caso sei preoccupato? ah e questa è la dove è uscita? no niente è che mi sembri un po' diverso rispetto a come hai dieci minuti fa c'è qualcosa che non va? no no sto bene Yoshi ma diglielo e basta andiamo Aiden e se c'è qualcosa che ti frulla in testa dimmelo e basta va bene va bene mi hai beccato in effetti ci stavo pensando beh se sei preoccupato di qualcosa parliamo col signor Clemonte voglio dire se vuoi ci parlo io di telefono e ho fatto un sacco di colloqui di lavoro per i miei lavoretti part time quando facevo l'università se vuoi ti posso aiutare? no il fatto è che ripensandoci bene non so se voglio accettare ah pensavo che avessi deciso ieri sì lo so ma mi è arrivata questa offerta solo ieri voglio dire forse mi sono emozionato troppo ecco non voglio prendere decisioni affrettate potrebbe essere un grosso cambiamento per me dopo tutto e anche per te pensi che ti sarebbe d'aiuto parlarne anche con gli altri e non sentire soltanto la mia d'opinione? non lo so Yuri mi sono già rotta un'unghia nel tirare fuori il bucato adesso potrei fare una pausa da tutte queste occupazioni queste occupazioni sono assolutamente utili e te le farò fare finché non capirai quanto sono fondamentali va bene va bene ho capito uffa visto cominci a capire ah ciao ragazze buongiorno oh ciao Yoshi Aiden oggi non sei nudo che occasione speciale è questa Aiden eh no niente che ultimamente fa freddo anche se non capisco com'è che nessuno ha detto niente per il fatto che in cucina stai sempre nudo secondo me è una violazione del codice sanitario beh magari quello è vero però io mi assicuro sempre che il cibo sia pulito e buono no non ti preoccupare Emilia siamo approvati da una associazione che non ripeterò un'associazione che favorisce il fatto che Aiden stia nudo te la sei inventata vero? no no assolutamente no siamo stati approvati da un'associazione assolutamente legittima e un po' scena e come hai fatto a ottenere l'approvazione di questa associazione con Aiden e che scorrazza nudo come se niente fosse? l'hai rinchiuso dentro l'armadio? beh quando vengono a fare le ispezioni mi vesto non sei mica l'unica qui a sapere come farla furba Emilia oh mi hai beccato di nuovo comunque sia che ci fate voi due qui? ah Emilia ed io volevamo prendere qualcosa per pulire nella mensa prima che arrivino i ragazzi domani pulire Emilia ti stai veramente impegnando e mi stai anche alleggerendo il carico di lavoro non è che abbia molta scelta in merito preferirei avere un lavoro alla schivania ovviamente e a proposito di lavori alla schivania ho sentito dire da mio padre che qualcuno ha ricevuto una bella offerta è vero? veramente diventerai uno chef professionista Aiden? veramente io Aiden ci sta ancora pensando eh cosa? sono veramente stupita dal fatto che tu sti anche solo valutando di rifiutare un'offerta simile un'opportunità del genere capita una volta nella vita e con una persona come il signor Cremonte del suo calibro che veramente vuole metterci il suo nome sopra OMG oh mio dio Aiden diventerai famoso non ti dimenticare di noi quando accadrà e per non parlare dei soldi con i clienti che ti manderà lui farai tanti di quei soldi eh sì immagino che siano tanti ah mi ricordo quando il mio account bancario era pieno di zeri e adesso invece dopo aver perso tutto quanto aver vissuto come una rifugiata adesso finalmente riesco a capire che differenza fanno i soldi non per essere cattiva Aiden ma non credo che tu abbia mai avuto molta libertà finanziaria prima d'ora e quindi adesso che hai la possibilità di cambiare tutto direi che la decisione è parecchio ovvia se fossi al tuo posto sarei subito andata a lottare per quella posizione da pro chef sì ma vedi Aiden è un po' diverso da te non sono tanti soldi che gli importano quanti rapporti con le persone, le cose speciali non sono i tuoi stessi pensieri sicuramente i soldi sono importanti ma ci sono anche altri fattori da considerare ma è un lavoro si tratta per forza di soldi Emilia non è che tutto riguarda i soldi nel mondo su via riguarda anche la passione che ti rende felice sul lungo periodo non credo che ti piacerebbe fare un lavoro che ti paga bene ma che nel lungo termine ti fa diventare depressa e ti fa odiare la vita no? e comunque sia io Aiden un po' lo capisco non è abituato a questo tipo di ambiente quindi ha senso che gli serva tempo per decidere saranno super competitivi ma per come la vedo io stai soltanto perdendo tempo se non vuoi andare insegnami a cucinare così ci vado io al tuo posto oh andiamo ma se tu riusciresti a bruciare anche i cereali se ti lasciassimo entrare in cucina lasciala perdere Aiden non sa di cosa sta parlando vabbè adesso se non vi dispiace dobbiamo prendere questa Emilia e farle pulire il pavimento no 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 e invece si vado eh vabbè oh stai bene sì ma quello che hanno detto Emilia e Yuri mi è dato da pensare vabbè e con calma Aiden davvero hanno soltanto detto quello che gli è passato per la mente sì forse hai ragione vabbè è meglio che lavoriamo adesso dai cuciniamo per oggi mentre ci siamo va bene i ragazzi arriveranno presto quindi cominciamo ad aprire il forno mentre lavoravo con Aiden era molto silenzioso e perso nei suoi pensieri è proprio come quando eravamo in albergo continua a cambiare argomento e fa finta che vada tutto bene e invece sapevo che stava rimuginando una parte di me sperava di sbagliarsi ovviamente e di stare vedendo troppe cose dove non c'erano ma no no Aiden c'ha qualcosa ragazzi dopo aver finito di cucinare siamo andati al sito di costruzione per portare il pranzo a tutti e vedere se potevamo fare qualche cosa non si usa così il martello cretino stai piegando tutti i chiodi e come pensi che debba fare a infilarli nel legno allora te l'ho già fatto vedere tu continui a ignorarmi davvero hai la soglia d'attenzione di un pesce rosso oh baci piano con le parole dinamite e adesso baciatevi oh mio dio quei due stanno litigando da quando abbiamo cominciato non che mi dispiace mi sembra interessante questa relazione si forse avrei dovuto far lavorare Yoichi su qualcos'altro eh comunque sia che ne dite di buttare via tutte le materie di scarto adesso? ah si buona idea Yoichi abbiamo delle cose divertenti da farti fare vedi quella pila di mattoni rotti che c'è lì? ti dispiacerebbe distruggerli? si finalmente posso fare qualcosa in cui sono bravo oh mio dio finalmente vattene addio ragazzi fate una piccola pausa vi abbiamo portato da mangiare oh grazie sto morendo di fame spero che non sia la tua roba verde super sana guarda no stavolta vi ho fatto i burger avete bisogno di proteine extra visto che state lavorando fuori così tanto in effetti sono sorpreso di vederti qui Jin stai aiutando con le riparazioni? si mi sono fermato dopo che ho finito di programmare beh sai dopo l'allenamento di oggi Jin voleva continuare a essere fisicamente attivo ah ti stai facendo i muscoli bravo bravo va chiamali i muscoli sembri dinamite e che c'è di male io sono un figo mi sembri solo malnutrito non sa nemmeno come si scrive guarda beh per me veramente sarebbe un sogno avere il fisico di uno qualunque di voi dai ci vuole tempo Jin non è che i muscoli si fanno in mezza giornata su via si glielo ho detto anch'io ma vuole diventare figo e muscoloso perché non so che cosplay voglia fare che cosplay Jin? no boh in realtà non ho mai fatto i cosplayer però mi sarebbe sempre piaciuto farlo oh chi è per vento dove sta il ketchup ops mi sa che me lo sono dimenticato oh allora che senso aveva portarci tutto fuori scusami mi sarà passato di mente che è di fuori Aiden in questo momento beh beh vado a prendere dai va bene vado a prendere anche dei marshmallow mentre ci sono non tornerà più vero? meglio ce ne sarà di più per noi cerca di masticare quando mangi senza parlare altrimenti ti affoghi va bene va bene va bene è che non posso farci niente i burger di Aiden sono 100 volte più buone di quelle porcherie da fast food che prendo di solito si sono d'accordo non riuscirò più a tornare alla mia vecchia dieta dopo aver mangiato la roba di Aiden grazie per il cibo Aiden è sempre buono oh guarda se un giorno mai tu aprissi il tuo ristorante diventerò il tuo fedelissimo cliente tutti i giorni però mangia da te sempre eh ragazzi siete troppo gentili no no guarda che sono serio eh ci dovrai fare una carriera su questo tuo talento sarebbe veramente di successo come cosa già me lo vedo Camp Buddy una storia originale di come uno chef di successo ha iniziato la sua carriera I know Master Chef Aiden ha veramente un bel suono non pensi? se è quello che Aiden effettivamente vuole altrimenti se è quello che vuole si certo eh ci sto ancora pensando che senso? no voglio dire il signor Cremont è andato via ieri e e prima di andarsene mi ha fatto un'offerta per frequentare una scuola da chef wow che bella notizia Aiden congratulazioni sicuramente hai detto di sì vero? potremmo essere colleghi voglio dire avremo lo stesso capo a quel punto non siamo già colleghi? oh yeah ah si hai ragione però avete capito cosa voglio dire voglio dire un lavoro per la Clermonte Inc sarebbe veramente prestigioso ottimo per il tuo curriculum il fatto è che Aiden non ha ancora accettato sta ancora prendendosi tempo per pensare cos'è che ti trattiene Aiden? no è che mi sento un po' sotto pressione per questa cosa e perché mai? non è quello che fai già da sempre da quando sei qui? non esattamente soprattutto se si tratta di ristoranti sì in effetti Dario e io abbiamo disegnato diverse cucine industriali prima e lo sappiamo che diventa tutto molto caotico lì dentro devi stare lì e cucinare a catena finché il cartello del ristorante dice che è tutto aperto sì a differenza di quello che si fa qui al campeggio dove si può programmare un pasto con una settimana d'anticipo e cucinare tutto in anticipo beh senti non prendermi nel verso sbagliato lo so che quello che stai facendo adesso è un lavoro molto intenso ma il problema è lo stress che ti troverai a gestire un po' come tutte le professioni che ci sono ultimamente beh il punto anche è che bisognerà vedere come ti troverai con i tuoi futuri colleghi io per esempio non mi ero mai trovato bene con nessuno come mi sono trovato con voi ma voglio dire se lasciamo perdere Emilia prima della trasformazione vabbè sì insomma quindi lo capiamo se sei un po' dubbioso ancora su questa scelta tutta questa pressione farebbe venire nervoso anche a me dai ragazzi basta non dovete scoraggiarlo oh scusami ma non è la mia intenzione e se sei preoccupato per questo cambiamento lascia che te lo dica io dall'altra parte è sempre meglio però la mia situazione era differente voglio dire se non avessi colto l'occasione quando mi sei presentata a quest'ora non sarei con voi non saremo tutti amici è vero anch'io sono riuscito a conoscervi tutti quanti perché mi sono spinto al di fuori della mia comfort zone quindi ogni tanto rischiare un pochino a senso? esatto una volta che impari certe cose capisci come farle funzionare tutto diventa più semplice Aiden è una persona molto precisa sicuramente può rendersi conto subito di come funzionano le cose ecco di come farle funzionare per lui beh allora se la mettiamo in questo modo direi che la risposta è abbastanza ovvia di quello che deve fare Aiden no? oh non riesco a trovare i marshmallow dove l'avete nascosti? oh guarda un po' è tornato alla fine non riesci a usare il tuo fiuto per trovarli? stai zitto dinamite non stavo parlando con te comunque mi hai avanzato un po' di hamburger se vuoi sono già abbastanza sazio Yoichi ottimo! che stavi per dire Aiden prima che ci interrompessero? no niente di importante anzi e della verità mi sono ricordato che devo andare a fare il bucato eh ci vediamo dopo che problemi ha a chiapare il vento oggi? gli hai parlato sopra scemo e soprattutto perché sta appendendo il bucato fuori d'inverno non diventerà tutto un blocco di ghiaccio? sì scusate ragazzi devo andare a chiaparlo un secondo prima che faccia altre fesserie eh Aiden ce lo vuoi dire cosa c'è che non va invece di attaccare le lenzuola fuori in modo che congelino? Aiden che ci fai qui? Yoshi! oh Yoshi tutto bene guarda che sei un po' andato oggi spiegati davvero? sì io mi chiedo tu stessi cercando di evitare la conversazione già hai cercato di evitare parecchie conversazioni oggi eh guarda io so che stai frustratato oggi con tutte le parlate sull'offerta soprattutto quando stai ancora pensando ma senti ho capito che ti danno fastidio tutti questi discorsi sull'offerta che hai ricevuto soprattutto visto che ci stai ancora pensando ma ho bisogno che tu mi dica che problemi ci sono sennò come faccio raggiarti? me lo puoi dire per favore? ti ascolterò io non so se dovrei o non dovrei farlo Yoshi ma ma questo cambiamento di idea che hai appena avuto ma non eri sicuro fino a ieri sera? ma hai anche fatto tutto il discorso su tuo padre su tutte le cose belle perché hai cambiato idea? che è successo? lo so ti preoccupa il fatto che dovrai cambiare routine imparare cose nuove l'ambiente che sarà troppo diverso? se vuoi possiamo chiamare il signor Claremont e ciò che aiuta aiutare i tuoi dubbi guarda che possiamo chiamare il signor Claremonte così ti fai spiegare tutto da lui senza sapere i dettagli è normale sentirsi più ansiosi quindi se vuoi facciamo questa cosa no il problema non è quello è che io lo capisco che tu ti senti sotto pressione adesso ma andrà tutto bene sono qui per te un minuto senza parlare di questi accidenti di offerta possiamo stare un minuto senza parlarne per favore eh ok è da ieri che tutti parlano solo di questo sto impazzendo te l'ho già detto mi serve più tempo e non riesco a pensare se tutti quanti insistete così tanto scusami Aiden non volevo è che non capisco come mai hai cambiato idea così all'improvviso è perché l'ho già chiamato il signor Claremont e quando quando è andato nell'ufficio di Goro immagino eh infatti gli ho detto che ero interessato a tutto quanto lui mi ha spiegato dei dettagli e che ti ha detto? che per ottenere la certificazione che mi serve devo anche iscrivermi a un corso di allenamento e lui ha intenzione di pagare per tutto per il mio alloggio per lo studio che devo fare ed è una buona notizia sì ma ci vorranno almeno due anni beh è normale anche io ci sono stato un bel po' l'università serve tempo per queste cose ed è esattamente questo il punto proprio come hai fatto te anche io me ne dovei andare magari andare all'estero e non potrei tornare finché non avrò finito di fare tutte le mie cose eh due anni lontano dal Camp Buddy per lui immagino che sia difficile da affrontare come cosa e chi lo sa magari se riuscissi a diplomarmi e tutto potrei dovermi trovare a lavorare da un'altra parte ma è proprio quello il punto sarebbe uno spreco se dopo tutto il tuo duro lavoro tornassi al Camp Buddy se è quello che ci vuole per poter finalmente coronare il tuo sogno secondo me ne varrà la pena no non è vero cosa non voglio andare mai da qui ma non capisco perché perché voglio stare con te oh piccino Aiden non è che non ci vedremo mai in quei due anni ti ricordi quando me ne dovevo andare per studiare ti ho promesso quella cosa che sei tornato quando eravamo sul tetto insieme l'ho mantenuta no è la stessa cosa ma stavolta sarai tu a dover andare via e poi sicuramente dovremo qualche modo per stare insieme ma non sarà la stessa cosa Aiden lo so che hai paura tutti quanti abbiamo paura è normale lo capisco che tu abbia paura di una cosa del genere ma vedrai che sul lungo termine ne sarà valsa la pena non voglio essere il motivo per cui non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi Yoshi più fai così e meno voglio andare guarda ma non puoi nemmeno arrenderti di già non è una buona motivazione per mollare tutto questa non voglio mollare tutto non sto mollando tutto così mi fai soltanto capire che non hai idea di quello che ho passato perché insisti così tanto non mi avevi già detto che per te vado bene anche così che sono già abbastanza che non c'era bisogno che fossi di più di quello che sono già Aiden non è quello il punto ho soltanto detto che il tempo passato lontano varrebbe la pena di è facile per te da dire Yoshi sei tu quello che se n'è andato in passato come fai a sapere come mi sentirei? e niente e Aiden è andato via guardare Aiden andare via così senza poter far niente per fermarlo ero troppo scioccato per dire qualche cosa e mi cominciai subito a pentire di aver spinto così tanto Aiden anche se sapevo benissimo quanto si era infastidito per tutti i discorsi della giornata sentire il suo dolore la sua frustrazione nella sua voce mi aveva fatto sentire come se avessi sbagliato tutto con lui soprattutto visto che c'era ancora qualcosa di lui che non capivo dopo tutti quegli anni ragazzi la situazione qui sta diventando un po' complicata tra i nostri fidanzatini mi domando come riusciano a risolverla perché insomma immagino che la risolveranno in camp buddy di solito i conflitti vengono risolti e Aiden al momento è sparito ma dove è finito lo scopriremo nel prossimo episodio mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione devo dire che è una cosa piuttosto comune di ritrovarsi in una situazione in cui bisogna fare una scelta che ti cambierà un po' la vita di sentire qualcosa che ti tiene fermo dove sei vuoi un po' la paura della novità vuoi un po' la paura di perdere quello che ha insomma io Aiden lo capisco bene anche per motivi personali fatemi sapere se anche voi condividete detto questo grazie a tutti alla prossima con il magico mondo del triste camp buddy che spero si risolva e Kira e Tana Love ciao ciao piccolino Yoshinori in realtà è un bravo fidanzato però Aiden è veramente adorabile ciao